Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, torna a parlare in diretta su Cilento Channel della questione ospedale e lo fa in modo critico e deciso, rivelando anche vari retroscena dell'attuale situazione. Si sta parlando di riorganizzazione dei presidi covid, di farli partire, del personale necessario ma anche della rete dell'emergenza, ha chiarito il sindaco. Parlando con il direttore generale Iervolino, sto facendo pressione perché rappresento le esigenze di un comprensorio e dell'alto Cilento che vive la chiusura dell'ospedale come una ferita. Al direttore generale ho detto che è evidente che gli impegni devono essere mantenuti, tra cui l'implementazione del pronto soccorso H24, oltre al reparto di medicina. Ci auguriamo di avere risposte concrete a breve, c'è un tempo per tutto e quello della battaglia, nel caso non verranno mantenuti gli impegni, si avvicina. Adamo Coppola ha anticipato anche le azioni che verranno intraprese, in caso di una mancata riapertura, il tono è deciso, possiamo fare diverse tipologie di azioni, si partirà con quelle politiche, le prime ad essere attivate, faccio parte di uno schieramento politico dal quale mi allontanerò, afferma il sindaco, se non garantirà le istanze al mio territorio, poi comincerà con le battaglie civili a 360 gradi, con proteste prima più garbate, ma poi anche quelle più forti. Il primo cittadino interviene anche sugli annunci, poi non conclusi, dell'apertura dell'ospedale, riservando all'ASL parole ben precise. Dopo tanti anni di attesa, se il direttore generale comincia a dire che siamo pronti ad aprire e senti un clima positivo, mai verificato in passato, apprendi la volontà di aprire la breve tempistica dal dottor Polverino e dal dottor Chiumento, racconti così quel pizzico di entusiasmo. Anche il direttore del San Luca di Vallo, De Vita, mi diceva di essere ad un passo dalla riapertura, per questo ho fatto annunci entusiasmanti, ma la mia pazienza ha un limite e fino ad ora ho difeso il lavoro dell'ASL. Le critiche che ho ricevuto non mi hanno fatto piacere, mi sono sacrificato e a un certo punto, se mi renderò conto di essere stato preso in giro, sarò costretto ad attaccare l'ASL e i miei referenti politici, questa battaglia la farò senza regole. In chiusura, il sindaco Coppola svela anche un retroscena riguardo alle mascherine. Il comune di Agropoli aveva comprato le mascherine FFP2 e FFP3 da donare ai sanitari che sarebbero venuti all'ospedale, ha detto. Avevamo pensato ad un regalo e le avevamo prese anche rapidamente, sapendo di un'apertura in breve tempo. La prima azione dimostrativa, anche in caso di non apertura, sarà quella di regalarle all'ASL. Ci presenteremo lo stesso all'appuntamento, anche se non saremo invitati. Ho ancora fiducia nella sanità salernitana, ma se all'inizio della riapertura estiva non sarà data risposta, almeno per il pronto soccorso, convocherò tutte le forze sociali e politiche della città per cominciare una battaglia condivisa. Spero di non arrivarci, conclude Coppola.